Buonasera a tutti, questa sera parliamo di Crategus oxycanta e è un nome un po' difficile da dire e da ricordare ma è semplicemente il nome botanico dell'arbusto del cespuglio del biancospino. Il biancospino è della famiglia delle rosacee, ha l'aspetto di un arbusto, si forma proprio un bel cespuglio, ha i rami che sono adornati da piccole spine sottili e dei piccoli fiori bianchi che hanno un profumo molto intenso. Il nome Crategus deriva dalla greco kratos che significa praticamente forza, poi abbiamo oxy che deriva da oxus che significa aguzzo e anthos che significa fiore, quindi sta ad indicare praticamente un fiore spinoso che dà grande forza. Il biancospino è sempre stato ignorato nell'antichità dai popoli antichi dal punto di vista medicamentoso, è sempre stato considerato una pianta semplicemente ornamentale proprio per la profumazione dei suoi fiori. Invece dal diciannovesimo secolo ci sono degli studi che hanno dimostrato la validità del macerato di biancospino e dell'estratto fluido di biancospino come cardiotonico e come ipotensivo. Quindi diciamo che si può poi utilizzare sotto forma nella somministrazione di queste gocce in tutte quelle forme lievi di ipertensione magari legate a un abbattito accelerato a livello cardiaco. Spesso e volentieri le gocce di biancospino vengono associate alle gocce di olivo in caso di ipertensione oppure alle gocce di tiglia tomentosa in caso ci sia un rialzo di pressione causato da tensione nervosa. Il biancospino non crea effetti collaterali stando nelle dosi diciamo classiche. Attenzione a non abusarne perché l'effetto collaterale più noto da sovradosaggio di biancospino è un notevole mal di testa. Arrivederci e buona serata.